Ciao a tutti, sono Samuel Aperti, fotografo e videomaker, e oggi parliamo di Nikon 38. Io, insieme ad altri miei colleghi, sono stati invitati a provare la Nikon Z8 in anteprima, e devo dire che sono rimasto molto, molto, molto contento di questa camera. Sono stato anche invitato alla presentazione della Z8 ufficiale al Photo London a Londra. È stata un'esperienza molto bella, molto valida, dove ho incontrato professionisti di altissimo livello, e sono davvero grato di questo. Nonostante questa collaborazione con Nikon, il mio parere è davvero onesto. Voglio cominciare dal sondaggio su Instagram che ho fatto e da DM che ho ricevuto. Allora, mi hanno chiesto perché è meglio di FX, perché nel sondaggio ho scritto che a mani basse io sceglierei Z8 contro Sony FX3. Allora, perché è meglio di FX3? Allora, innanzitutto, la FX3 non è una macchina fotografica, può fare foto, sì, però non ha il viewfinder, non ha il mirino, mentre il Nikon Z8 ha il mirino. Ma, tralasciamo questo. Anche solo dalla parte video, per me, il Nikon Z8 è superiore a FX3. Innanzitutto, in Nikon Z8 abbiamo il RAW interno, anche compresso, il ProRes RAW, l'Apple ProRes in 10 bit, il Log, l'H265, l'H264 e molte altre compressioni. Perciò possiamo davvero creare il file che ci serve per il progetto in cui stiamo lavorando. Per di più, la Z8 è anche una grandissima fotocamera, quindi io sceglierei, senza abbringi dubbio, Z8 contro FX3. Un'altra domanda che mi è stata fatta? Mi hanno chiesto di paragonarla alla cinema camera. Adesso, non ho potuto paragonarla alla Blackmagic, alla RED, perché non ho avuto l'occasione di utilizzare Z8 tutto questo tempo. Però ho avuto l'occasione, appunto, di filmare il RAW e di poter lavorare il RAW in DaVinci e poter colorare questo file. E vi dico che è davvero un file eccezionale. È davvero un file completo. È un file paragonabile a altri file RAW che ho utilizzato di cinema camera. Perciò, sì, è paragonabile a una cinema camera. Per via di questo RAW interno. Sì, poi ci sono anche altri mirrorless che fanno RAW, ma comunque è un RAW esterno, bisogna collegare un monitor, tutto diventa più grande ai bocchi, quindi la Z8 lo può fare internamente. E questo è un grandissimo vantaggio. Per di più, compresso. Com'è il formato RAW video? Ve l'ho già detto, è un formato davvero incredibile. Davvero molto incredibile. Non ho provato il ProRes RAW, quindi questo ancora non posso dirvi. Spero di provarlo presto e potervi parlare anche del ProRes RAW che fa Z8. Io ho utilizzato solo nel RAW, che sarebbe il RAW puro, compresso. Sappiamo tutti la storia che c'è stata tra Nikon e Red. Perciò abbiamo un real RAW, un vero RAW, anche compresso, in Nikon Z8. Un'altra domanda che mi è stata chiesta è... Nikon Z9 o Nikon Z8? Allora, per chi utilizza spesso l'impugnatura verticale, ha bisogno di una durata della batteria infinita, Nikon Z9. Mentre per chi non scatta tanto in verticale e vuole un corpo più compatto, con le stesse feature della Z9, Nikon Z8. Un'altra domanda che proprio mi è stata chiesta tantissimo, uscirà la Nikon Z6-3. Io questo non lo so, penso e spero di sì e spero anche che abbia le funzionalità, le feature della Z8 nella parte video. Magari avrà un sensore, non sarà un 8K, sarà un 6K, perciò potrà rimanere un 24 milioni di pixel. Forse sarà aggiornato a 30, ma sarà più concentrata nella parte video. Mentre la Z7-3 sarà più concentrata nella parte fotografica e meno feature nel video. Magari non farà l'interno, per esempio. Però questi sono i miei pensieri personali e io la verità non la so. Lo scopriremo vivendo. Un'altra domanda è... È la migliore ibrida? La Z8 è la migliore ibrida? Sì, a mio parere la Z8 è la migliore ibrida che sia mai stata prodotta. Qualità foto eccellenti, prestazioni video elevatissime, appunto come abbiamo già detto, come ho già detto, il raw interno, il progress, l'autofocus per chi lo utilizza, sul gimbal anche utilizza l'autofocus perché magari non può permettersi un focus puller. Perciò sì, la Z8 a mio parere è la migliore ibrida di sempre. Vediamo se abbiamo finito... No, di qua andiamo... Ah, la gamma dinamica. E la gamma dinamica è molto buona. Io l'ho utilizzata verso mezzogiorno con il sole pieno e la ragazza che stavo filmando aveva una t-shirt bianca. E tutti i file hanno informazione sul bianco della t-shirt e anche informazione nelle ombre. A occhio e croce io direi che sicuramente ha almeno 14 stop di gamma dinamica perché ho utilizzato sia Red che Blackmagic che Harry e diciamo che le camere che ho testato che hanno di sicuro 14 stop di gamma dinamica, il file è molto simile a questo qui della Z8. Ho utilizzato anche altre camere come appunto Red che dichiara di avere 16 plus stop di gamma dinamica, però non le trovo così veritieri queste programmazioni. Quindi secondo me Z8, sicuramente almeno 14 stop, non è una cosa scientifica ma sono sicuro che è più che sufficiente il dynamic range di questa camera. Le considerazioni finali più o meno sono queste, quindi posso recapitolarle. Secondo me è la migliore ibrida, ottima sia per foto come Nikon ci ha sempre insegnato, è ottimissima per video. Probabilmente la miglior mirrorless per video, a me piace avere il massimo della qualità dei miei file e questa fa il RAW, il RAW compresso, l'Apple ProRes RAW. Voglio dire, cosa c'è meglio di questo? È compatta, ha un monitor incredibile, il mirino è molto molto buono. L'autofocus, per chi usa autofocus, sicuramente in certi progetti, magari su gimbal, per le persone che lavorano da sole, è essenziale avere un autofocus così efficace. E a livello fotografico, come ho già detto, un'ottima camera. Quindi molto positiva, per me troverà uno spazio nel mercato. Anche il Z9 lo era, l'unica cosa è che magari un prezzo un pochino più elevato non tutti potevano permettersela. Anche questa, che penso che il prezzo sia attorno ai 4.500€, forse qualcosa di più o qualcosa di meno, non so il prezzo esatto. Ma sicuramente a questa cifra batte le competitor. Grazie per essere arrivati fino a questa parte finale del video. A presto! Grazie a tutti!